Il ristorante da Incubo oggi che porta a Montmartre, Montmartre le Mont de Marti, che rappellano il sacrificio di Sainte. Il ristorante da Incubo oggi. 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 allora questo trenino l'abbiamo preso diverse volte e porta poi giù a Moulin Rouge quindi questa è la zona proprio della Francia ma la Francia la Francia quindi questa qui è veramente la Parigi e questo qua che voi vedete qua non è niente perché c'è stato il covid però nei giorni normali è impossibile camminare e qui ci sono tutti gli artisti torno alla piazza ci sono tutti gli artisti è bellissimo venire qua ragazzi perché questa qua è proprio la Parigi la Parigi Parigi oh yes come on a rose tomorrow queste qua che voi vedete si rendono veramente un sacco di soli però queste qua vi fanno le caricature fanno veramente un colozzi e sono però tantissimi artisti stiamo facendo il giro della piazza qua ci sta una galleria d'arte che un amico conosce e può essere che mi fa esporre qui l'amico conosce te l'amico conosce o ainsi bellissima bellissima bella eccezione e quindi speriamo che magari vi potrebbe esporre in questa galleria d'arte allora tutti i vicoletti sono tutti quanti da esplorare è una zona molto ma molto bella la chiesa del sacro cuore ma adesso mi è venuta praticamente in mente e poi ci stanno comunque tutti i ristoranti qui potete passare benissimo tutta la vostra giornata di visita a Parigi perché comunque potete mangiare al ristorantino che non sono cari perché potete prendere anche solo le entrette quindi non è che dovete prendere per forza il piatto principale e da tutti i vicoli è tutto così poi si va a scendere, poi si va a salire ci sta allora il miglior ristorante è questo le cadet e le cascone però comunque cucinano tutti quanti bene solo che oggi abbiamo trovato questa persona che si è presentata in modo maleducata perché questi posti che voi vedete qui normalmente sono per i turisti allora loro vengono vogliono il sole e invece poi ci stanno le terrazze che normalmente vengono usate per le persone di Francia e quindi magari vanno a tavolo e mangiano l'altro però diciamo che i sediolini lì come voi vedete normalmente li utilizzano per i turisti quindi quando vai tu che vuoi mangiare si incazzano ed è stato molto maleducato ci siamo avvicinati però mi ha passato praticamente la cresta ma è l'incestio il cadet del cascone però è un ottimo ristorante poi gli altri però pure cucinano l'altro affiuttati allora iniziamo subito con le una coca cola? una coca cola vuoi? sì un coca cola light light e una botella d'o e una botella d'o pepillante sì allora cocktail gravetti speriamo che non ci ha spottato dentro e molto amate mozzarella e questo qua è San Marcellino San Marcellino è un formaggio un po' come il formaggio di capra piccone anti-pastic meglio è il frutto è ottimo allora ragazzi una cosa che dovete fare attenzione quando venite qua sono proprio queste le borse devono stare sempre vicino a voi sempre sul tocchio perché basta un minuto e non vi fanno capire niente quindi è meglio che le mettete sempre sul tocchio un bel premio un bel premio non vedete queste queste persone che si vedete che passano non lo so tu hai letto un bel premio è un bel premio è un bel premio è un bel premio è un bel premio che passano per farvi fare il disegno per il viso non vi dicono il prezzo allora alla fine non lo fate neanche cominciare perché quando alla fine farà l'attività di disegno vi fa praticamente un culo al quadrato circa 50 voi non lo fate neanche iniziare il disegno tutto allora alla ragia alla ragia è la ragia ciao qui a trovato il fatto un po' ci시 eh buona 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 Asomma! Aspetta Paolo Aspetta il canale Ciao! Voglio che lei! Quadrati! Quasi! Non vuoi fare, non vuoi? Pari qui vuole il canale? Pari il canale, cari il canale! Sì, ma chérie! Ati! Non vuoi! è bello 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 è l'attrazione di Notre Dame che cosa faccia? allora muro su muro si muro ma è bello è bello ci sono dei pelli sono dei pelli ci sono dei pelli è bello è bello mi senti un po' io le metto una broca con le patatini è bello le fritte è bello le ho trovate buone ma non eccezionale perché comunque una ventina di cozze non l'ho mangiato perché non erano aperte ora perché erano cittadino no, è bene, per quanto ho il nome per me e per quanto ho il nome qui, quindi vieni a comprare potete che sono le melanzo che tutti i giorni non mangiano e fare giù e quindi potete che sono le melanzo di tutte le giange non mangiano non mangiano il nome, non mangiano, è possibile perché sono le pizza che può essere sono le stracIG cream o sono tu permetto, o sono tutto più e allora che bello che bello e allora ecco ah no no 4 cuore 4 cuore 4 4 4 4 5 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 6 6 7 5 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 6 6 6 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 10 11 12 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 13 13 14 14 15 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 Grazie a tutti